Franco Zuccalà, non hai bisogno di presentazioni, però c'è qualcosa da presentare? Beh sì, mi sono così esercitato per tanti anni a riprendere tutto quello che vi devo in giro per il mondo e adesso ho fatto un mio blog, Cartoline dal mondo, dove metto in onda tutto quello che ho visto e ho registrato. Come facciamo ad arrivarci? Beh, penso basta. Franco Zuccalà, tutto minuscolo, senza accento sulla A, punto it, è facile e potete vedere già dei filmati su New York, sull'Iraq, sul Brunei, eccetera, eccetera. Ne ho più di 200 da mostrare. Anche sui social sei diventato attivo negli ultimi tempi? Ma sai, sono dei vizi del momento, bisogna fare qualcosa e io mi diverto così interloquendo con gli ascoltatori, lettori, cioè più che altro, coloro i quali vanno sul mio sito. Mi chiedono tante cose curiose e io cerco di rispondere. Allora invitiamo tutti a salire sul tuo nuovo sito. Beh, io spero, ringrazio tutti se ci andrete, così ci saranno anche delle cose divertenti, immagino.